Sono circa le 14 e 30 quando un uomo avvolto coperto e armato di coltello entra nel supermercato e intima la cassiera di aprire il registratore di cassa per consegnargli tutto il denaro. La donna non ci sta e inizia a respingere il malvivente che nel frattempo decide di dirigersi verso l'altra cassa. La dipendente reagisce nuovamente dando vita ad una collutazione con l'uomo. I due poi cadono a terra. Sono le immagini del coraggio di una donna cassiera presso il supermercato Carrefour del centro di Caroligno. Le immagini risalgono a giovedì 22 luglio scorso. La stessa azienda ha scelto di pubblicare il video ripreso dalle telecamere di sicurezza. Dopo la collutazione la donna si rifugia dietro la cassa colta da un crollo probabilmente emotivo ma soprattutto fisico. A soccorrerla è un collega che interviene sul posto allontanando l'uomo ma il malvivente con freddezza cinica osserva la scena della donna rannicchiata e intanto raccoglie tutte le banconote che può comprese quelle delle casse per poi darsi alla fuga. La cassiera coraggiosa crolla nuovamente a terra spaventata dopo l'accaduto. Dopo i fatti avvenuti nel supermercato sono stati alertati i carabinieri che ora anche grazie alle immagini di videosorveglianza poste all'interno della struttura stanno cercando di risalire all'identità dell'uomo. Tutto da quantificare ancora il bottino portato via dal ma vivente inquantificabile invece il coraggio della cassiera che ha difeso con tutta se stessa l'incasso di giornata del supermercato nonostante la minaccia sotto coltello. Fortunatamente per la donna nessun ferimento, solo tanti elogi. Grazie.